I Love My School è il titolo della conferenza dei servizi promossa dalla provincia di Latina per fare il punto sugli interventi realizzati nei dieci anni dell'amministrazione Cusani a favore della scuola. Secondo il responsabile del settore, Vincenzo Mattei, davvero non si poteva fare di più. In effetti questa conferenza di servizi, indetta sia dalla provincia che dal provveditore agli studi, è l'occasione per fare un bilancio di dieci anni dell'attività scolastica sia per quanto riguarda l'edilizia sia per quanto riguarda gli interventi di natura diversa. Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, da Aprilia fino a Castelforte. Potrei farti un elenco lunghissimo degli interventi manutentivi e strutturali che ammontano centinaia di milioni. Io ritengo che si debbano fare in tutte le grandi città della provincia quei campus scolastici che noi abbiamo realizzato a Cisterna, stiamo realizzando ad Aprilia e a Terracina. Quindi questi due canali, campus scolastici, poli scolastici, tecnologia e soprattutto poi lavorare sulla persona, sull'allunno, sul docente perché loro sono i cardini della scuola italiana del futuro. Anche il Presidente Armando Cusani, attualmente sospeso, è del tutto soddisfatto del lavoro portato a termine. Non a caso la nostra provincia, i nostri istituti scolastici secondari sono per qualità tra i primi in Italia. Siamo orgogliosi di questo risultato. Ovviamente è un primo punto che abbiamo raggiunto, bisogna proseguire in questa direzione, bisogna continuare a lavorare perché le scuole siano veramente il luogo fondamentale sul quale investire e per le quali le pubbliche amministrazioni e le istituzioni in genere debbano veramente dare il massimo. I due campus, uno già realizzato a Cisterna, l'altro in corso di realizzazione ad Aprilia, che avrà anche all'interno una piscina semiolimpionica, sarà la prima in Italia in una scuola pubblica. Sono due imprese straordinarie, due grandissime opere. Credo che sia un fatto eccezionale, straordinario, che dovrebbe essere però un fatto ordinario. La sfida è trasmettere questa buona prassi anche alle altre istituzioni, alle altre amministrazioni, trasmettere alla Regione, trasmettere al Ministero, che molte volte, spesso, a livello anche nazionale, si parla di scuola, ma poi alla fine la scuola rimane solo nei programmi, nelle dichiarazioni di principio, nelle chiacchiere che si fanno anche a livello istituzionale. Noi abbiamo fatto per la scuola cose concrete.